San Marino Fixing San Marino Fixing insieme agli studenti delle classi quarta e quinta del liceo economico aziendale ha deciso di organizzare un corso pomeridiano di giornalismo. Abbiamo qui uno dei ragazzi che ha frequentato questo corso pomeridiano, Tommy Fantini. Puoi raccontarci della tua esperienza in questo corso? Sì, insomma, grazie a San Marino Fixing abbiamo avuto l'opportunità di migliorare la nostra abilità di scrittura potendo frequentare questo corso pomeridiano da gennaio a maggio in redazione. Gli incontri erano una volta ogni due settimane dove ci vedevamo per discutere degli argomenti da trattare e poi a casa scrivevamo appunto sugli argomenti scelti assieme al direttore e al collega direttore. Questo corso cosa vi ha lasciato? Beh, innanzitutto sicuramente la nostra abilità di scrittura è migliorata sia perché comunque ci hanno dato delle nozioni su come si scrive su un giornale e come si scrive in generale e sicuramente anche una cultura personale migliorata perché nuovi argomenti trattati o nuovi chiarimenti che prima magari erano un po' più perplessi si sono capiti. Gli obiettivi che erano previsti sono stati raggiunti? Credo che per la maggior parte dei ragazzi solamente il fatto di essere stato pubblicato su un giornale col proprio nome sia uno degli obiettivi che poi alla fine tutti hanno quasi raggiunto e credo che la soddisfazione più grande appunto è questa proprio di vedere il proprio nome su un giornale con un proprio articolo scritto da noi e quindi sì, credo che quello che è stato stabilito si è raggiunto. Ultima domanda prima di chiudere cosa vi ha spinto a seguire questo corso di giornalismo? In tutta sincerità devo dire che i crediti scolastici che poi vengono valutati a fine anno hanno dato un buon contributo però alla fine anche per il fatto di migliorare la nostra abilità di scrittura e non solo, anche il fatto di poter fare una nuova esperienza che non tutti hanno la possibilità di fare. Vorrei chiedere cosa consiglia agli altri? Beh, per gli studenti che avranno l'opportunità di poter partecipare a questo corso io spero che, anzi credo, vi consiglio di farlo perché vi migliora la qualità di scrittura vostra ma soprattutto vi dà l'opportunità di poter scrivere il vostro pensiero o le vostre idee su un giornale che viene letto da un largo numero di persone. Ringraziamo Tommy Fantini per averci detto la sua esperienza fatta e speriamo che altri studenti frequenteranno questo corso pomeridiano. Grazie a tutti.